Le strade di Salerno sono tornate a ripopolarsi e con il Natale ormai alle porte è iniziata la corsa agli acquisti. Nel primo weekend di bel tempo e con i negozi aperti, tanta gente si è riversata in centro per trascorrere una serata di apparente normalità. L'emergenza sanitaria non è stata ancora debellata, ma un po' tutti, con prudenza e rispettando le regole, stanno provando a voltare pagina. In maniera molto triste, devo dire la verità, perché le limitazioni si sentono tanto e chi ne sta pagando di più le spese sono proprio i bambini. Con molta attenzione, prestando moltissima attenzione a quello che si fa, a cercare di non avere troppo contatto con le persone. Non è la normalità che ci auguravamo, però questa è, questa ci prendiamo. Stiamo abbandonando un po' le nostre paure, le mettiamo un po' da parte, anche se la situazione purtroppo è quella che è, cerchiamo di affrontare il momento con un po' di ottimismo. Io penso che siccome guardandoci attorno vediamo tutti con mascherine o strumenti di protezione individuale, possiamo ritenere che tutti stanno cercando di fare la propria parte. Quando si avvicinano le feste di Natale cerchiamo comunque di sentire quello spirito di condivisione, di affetto, di famiglia, anche se sarà un Natale insolito questo di quest'anno. Presenze che fanno ben sperare i negozianti, ma che purtroppo non basteranno per cancellare mesi di chiusura e restrizioni. Non si recupererà mai quello che si è perso, però dalla riapertura non ci possiamo lamentare. Mi auguro che riaprano presto i colleghi del food in generale. Grazie a tutti.